ok ora iniziamo la sessione gioco e matematica il primo intervento è di alessandra buratto che ci parlerà di teoria di giochi o meglio giochi non solo in teoria bene io vorrei in questo intervento vorrei parlarvi della relazione tra la matematica e i giochi per fare questo vorrei soffermarmi su tre aspetti diciamo cosa c'è dietro un vero e proprio gioco un gioco quelli presentati direi egregiamente da ligabue e dov'è l'aspetto matematico come giustamente diceva che caratterizza un gioco ci sono le regole bene le regole essenzialmente la nella maggior parte dei giochi diciamo da tavolo comunque che abbiamo anche visto precedentemente sono dati da regole matematiche quindi vi darò solo un accenno su qualche esempio su come la matematica entra in questi giochi proprio alla portata di tutti poi invece scome io mi occupo proprio di teoria dei giochi vorrei farvi capire come i giochi hanno essenzialmente l'interesse la teoria dei giochi di studiare le interazioni tra le persone d'altra parte in un gioco stesso abbiamo parlato di due o più giocatori quindi l'interazione e quindi vorrei vorrei semplicemente farvi vedere quali e quante sono le applicazioni della teoria dei giochi nell'ambito del qualsiasi ambito non solo economico che invece quello di cui io mi occupo e proprio perché mi occupo di matematica applicata all'economia vi presenterò un pochino quello che è il concetto di equilibrio perché è l'unica possibilità in un gioco economico di poter avere una garanzia sulla prevedibilità dei comportamenti razionali dei giocatori e quindi un accenno anche a un film che ha fatto conoscere la teoria dei giochi a livello della popolazione un po' generale che è il beautiful mind della bibliografia di john nash che è stato un grandissimo studioso della teoria dei giochi perché la matematica proprio perché la matematica non è solo una cosa stratta non un'invenzione ma vuole essere proprio un modo per descrivere la realtà e soprattutto con una lingua universale in maniera che tutti ci possiamo capire una formula viene capita da russi americani cinesi e quindi possiamo tutti giocare assieme senza paura di avere delle malinterpretazioni allora non vi faccio la storia della te dei giochi perché l'abbiamo già appresa nelle presentazioni precedenti mi soffermo proprio sull'aspetto di interazione strategica e come diceva sempre nella prima presentazione ci sono diversi tipi di giochi competitivi cooperativi e anche questo da un punto di vista della loro analisi cambia moltissimo anche nella difficoltà di affrontarli e studiarli allora partiamo dai giochi visto che in questa in questo contesto stiamo parlando di giochi da tavolo e vediamo questa porzione di scacchiera di dama e vi faccio vedere come la matematica entra nell'analisi di un gioco e essenzialmente noi ci porremo dalla parte del computer pensiamo a come funziona dietro dietro qui dentro un computer con il quale io voglio giocare io sono la pedina bianca tocca a me giocare e osservate che ho due possibilità posso andare da tre a cinque o da tre a quattro ok bene allora rappresento con si chiama grafo meglio albero le alternative del giocatore bianco a questo punto supponiamo che decida di andare a destra e quindi andare da tre a quattro cosa può fare ora il giocatore nero stiamo parlando di giochi sequenziali che si alternano e allora il giocatore nero a questo punto non può che andare da sei a cinque e va da sei a cinque a sua volta invece il bianco ha tre possibilità ecco che vedete a destra nell'albero che io vado a descrivere ogni ad ogni passo che alternative a ogni ciascun giocatore e così via vado avanti e cosa succede ottengo che per ogni mossa di ciascun giocatore risposta dell'altro nell'albero arrivo a poter segnare chi va a vincere alla fine di ciascuna alternanza di giochi bene questo lo fa il computer lo fa in maniera selettiva scusate completa per tutte le alternative questo è l'albero relativo al gioco precedente che cosa osservate 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 che ci sono come nodi finali è un sacco di vincite dei nodi neri della del giocatore nero e se andate a osservare meglio nei dettagli vedrete che le due vittorie del bianco in realtà dipendono fortemente vedete un mouse si dipendono fortemente dalla scelta che il nero aveva fatto precedentemente per cui cosa fa il computer cerca di evitare che il giocatore bianco si trovi in quella ramo dell'albero così facendo se voi vedete il giocatore nero vincerà sicuramente qualsiasi decisione il giocatore bianco farà e prenderà vince il nero vince il computer dov'era prima il discorso che lì era semplicemente perché aumentava la velocità qui invece è una cosa ragionata e vorrei che non pensaste che in tutti i giochi vince sempre un giocatore no siamo partiti da una particolare situazione nella scacchiera bene ricordatevi questa cosa perché ci torneremo sopra con john nesce nel film beautiful mind proprio richiamando il gioco del go che abbiamo accennato prima quindi vedete che la matematica c'è proprio nei giochi più impensabili io prima vi ho fatto vedere la wii vi ho fatto vedere la playstation lì di matematica addirittura c'è una matematica complessa che magari anche il mio collega probabilmente spiegherà andiamo a parlare di non solo derivate ma anche equazioni differenziali una matematica molto sofisticata io rimarrò molto più terra a terra e invece voglio semplicemente farvi vedere tra le applicazioni della teoria dei giochi quali e quante ce ne sono come sempre tutte le applicazioni a livello della scienza della ricerca sono a livello militare quindi le prime applicazioni sono state in ambito militare quindi risaliamo ancora alla guerra del golfo ma in realtà andiamo ancora più indietro altro bellissimo film che invece della macchina di touring no e quindi durante la guerra mondiale applicazione all'economia e uno lo vedremo molto semplice al marketing sistemi di prezzaggio interazioni tra persone interazioni tra aziende nella finanza nella politica sistemi elettorali si studiano quali sono le strategie di azione in ambito politico i giochi di società ovviamente nello sport anche nello sport quali possono essere le diverse strategie per poter arrivare degli obiettivi vorrei saltare dirvene qualcuno di più insolito ma anche perché me ne sono occupata la medicina per esempio si studia il sistema sistema immunitario e la malattia HIV e si studiano questi si affrontano come due giocatori e ognuno vuole ha un suo obiettivo il sistema immunitario vuole mantenere più elevati possibile il numero di linfociti sani mentre l'HIV vuole sconfiggere e uccidere questi linfociti bene si formalizza questo sistema di interazione e si cerca di trovare la giusta il giusto livello di inter di somministrazione di farmaci affinché questi farmaci sconfiggano i virus però non siano così tossici da poter far morire il paziente e questo è una delle applicazioni un po insolite biologia bellissime applicazioni alla biologia io ho visto dimostrato proprio l'esempio che per far crescere bene delle piantine e si dimostra matematicamente nella teoria dei giochi per far crescere le piantine di basilico io devo inizialmente piantarle vicine perché stando vicine riescono a raccogliere meglio i nutrienti dalla terra e poi dopo un periodo le devi separare perché altrimenti una andrebbe a rubare il nutrimento all'altra e ambiente inquinamento anche questo il protocollo di chiotto altro non è che l'applicazione di un teorema della della teoria dei giochi per creare degli incentivi per seguire delle politiche di produzione non inquinanti o comunque che mantengano il livello di inquinamento basso devo andare avanti e vi faccio vedere in ambito economico le applicazioni della teoria dei giochi partiamo addirittura dagli anni 30 con von neumann e von neumann e morgester i due padri della teoria dei giochi applicata all'economia arriviamo a nesce arriviamo ai giorni nostri vorrei farvi osservare che nell'arco di 20 anni 11 premi nobel per l'economia sono stati dati a studiosi che si occupano della teoria dei giochi allora vediamo un giochino semplice semplice ho due aziende azienda a azienda b che vogliono conquistare due mercati bergamo e brescia perché questi esempi perché mi ha regalato queste slide questo esempio professor gambarelli di bergamo che uno dei più esperti conoscitori di teoria dei giochi in italia e allora gli ho lasciato l'esempio allora ho le due aziende che possono impiegare delle unità di capitale nei due nei due nei due mercati è chiaro che chi delle tra le due aziende conquista il dato mercato quello che riuscirà ad investire in quel mercato di più allora abbiamo la prima azienda ha quattro unità di capitale deve decidere dove investirla tutti a bergamo tre a bergamo una brescia due due una bergamo tre a brescia o viceversa tutto a brescia invece b ha solo due unità disponibili può investirle tutte a bergamo tutte a brescia o una e una cosa succede com'è che vi chi è che vince allora vediamo se l'azienda a investe tutto a bergamo e anche la b ma ovviamente avendo investito quattro la contro i due vince e il mercato di bergamo è conquistato dall'azienda a viceversa nessuna delle due investe a bergamo e il mercato di bergamo scusate a brescia e nessuno delle due vince a brescia qui in queste celle stiamo segnando la vittoria del giocatore a quindi lui conquista bergamo e quindi conquista un mercato un altro esempio giusto per capire se entrambi distribuiscono equamente le loro unità abbiamo che a fronte di due dell'azienda a unità a bergamo rispetto all'azienda b l'azienda a vince sia su bergamo che su brescia conquista due mercati giusto per farvi capire come si formalizza il problema bene detto così si arriva una matrice matrice dei pay off allora la questione è ora l'azienda deve dire bene e mo come come vado a distribuire le mie unità il mio capitale su questi mercati bene vorrei farvi notare che già qualcosa si può intuire non ho tempo per farvelo pensare quindi ve lo suggerisco guardate questa prima la strategia 4 0 vedete che qualsiasi cosa faccia il mio avversario guadagno meno di quanto guadagnerei per esempio con la strategia 3 1 perché quando prendo 1 a fronte di 2 0 a fronte di 1 0 a fronte di 0 d'accordo ma anche questa strategia in fondo potrei prendere 0 a fronte di 0 0 a fronte di 1 1 a fronte di 2 ma allora certamente quelle due strategie si possono togliere la teoria dei giochi cosa fa cerca di studiare analizzare la situazione pensando dei giocatori razionali in modo da arrivare ad intuire qual è la strategia ottima per ciascun giocatore cosa succede succede che alcuni casi come questi si riescono ad eliminare delle alternative e poi si iniziano a fare ragionamenti qui non è più possibile fare nulla ragionamenti del tipo del caratterizzati dalla versione rischio uno dice beh facciamo così nella peggiore delle ipotesi prendo e ciò che è meno peggio allora guardate se io scelgo la sceglie la strategia 3 1 potrei vincere 2 1 e 0 la peggiore delle ipotesi è 0 con quest'altra strategia potrei vincere 1 o 2 nella peggiore delle ipotesi 1 infine nella peggiore delle ipotesi qui prendo 0 cosa faccio nella meno peggio alla meno peggio meglio prendere 1 ecco che il giocatore a sceglie la strategia 2 2 strategia max min analogamente farà l'altro giocatore dobbiamo un po tener conto che essendo un gioco a somma zero quello che guadagno io ci perde l'altro quindi lui dovrà rovesciare fare e tener conto dei suoi pay off guardate cosa c'è di curioso che per l'altro qualsiasi decisione lui possa scegliere possa prendere la peggiore delle ipotesi è uguale quindi non riesce a dare a dare una preferenza però qui nasce la razionalità nasce tutte le ipotesi di tipo anche psicologico e comportamentale ma il giocatore b sa che il giocatore a gioca la 2 ma allora se sa che gioca la 2 potrebbe giocare solo o la 1 la prima o la terza perché gli potrebbero uno a minor perdita allora quello che succede che si crea una specie di di alternanza e di successione di ipotesi ma l'altro giocatore potrebbe giocare così allora io potrei giocare così ma allora che però purtroppo in alcune situazioni non portano ad alcuna ad alcuna soluzione allora ci si domanda come si può agire in questo in questo caso allora ci sono situazioni invece fortunate in cui cosa accade che il massimo dell'uno il massimo guadagno di un giocatore effettivamente si ha in corrispondenza di quando l'altro ha una minima perdita perfetto quella è una situazione bellissima purtroppo anche queste sono molto rare e da qui nasce l'importanza e la grandiosità del dell'equilibrio di nasce del concetto di equilibrio che ha introdotto appunto john nasce anche perché questo ragionamento del max min porta a volte a dei compromessi e non solo da scusate non ha dei compromessi a a delle a delle situazioni non razionali questo è il problema di due prigionieri che no di due persone che vengono arrestate e perché sospettate di aver fatto entrambi un furto cosa succede potrebbero entrambi confessare se entrambi confessano prendono cinque anni di galera tutti due se uno confessa e confessa sì sono stato io e c'era anche lui allora per una questione di sconto della pena a lui non viene dato niente all'altro sei anni simmetricamente se è l'altro che confessa se invece nessuno dei due confessa o merta non ci sono le prove per cui prendono tutti due un anno bene il sistema del max min che vi ho descritto prima esistente prima dell'arrivo di john nasce porta che la soluzione ottima è per entrambi confessare però sarete tutti d'accordo che non è certamente quella la situazione di migliore per i due giocatori quello che manca l'idea qua è la situazione di cooperazione loro dovrebbero pensare a cooperare e a entrambi portarsi a casa solo un anno di prigione anziché cinque bene allora john nasce cosa ha fatto ha ideato questo concetto ci sono situazioni in cui non si esce dal dalla situazione di scusate dalla condizione di poter avere se uno sceglie una strategia allora quell'altra migliore la migliore per l'altro non è necessariamente la quella che aveva scelto precedentemente e da lì non si esce cosa dice john nasce john nasce dice costituiamo un equilibrio un equilibrio è dato da una coppia due giocatori una coppia di strategie tali per cui finché ognuno degli altri giocatori gioca all'equilibrio al primo giocatore non conviene far altro che giocare l'equilibrio perché se non gioca la strategia di equilibrio terrebbe di meno guardate l'idea la strategia a alfa è di equilibrio perché considerato che questo giocatore gioca a e il suo pay off sono i primi elementi il secondo giocatore potrebbe vincere 2 0 0 certamente lì con se gli conviene giocare alfa che prende 2 non basta io ho detto per ogni giocatore quindi devo vedere anche il viceversa considerato quindi che il secondo giocatore gioca alfa il primo giocatore potrebbe vincere 1 0 0 0 e quindi la cosa migliore che gli capita è giocare a ecco la strategia la coppia l'equilibrio e questo fa sì che non appena si gioca l'equilibrio nessuno è incentivato ad andare fuori da quell'equilibrio vi faccio osservare che non è detto che sia unico e ci sono teoremi di esistenza in alcuni casi di unicità ma non è detto che esista sempre nei giochi finiti sì ma non è detto che esista sempre e non è detto che sia unico ma in economia quello che interessa è almeno se esiste lo troviamo magari non è l'unico ma intanto sono in una situazione in cui possiamo prevedere i comportamenti degli altri allora giusto come tributo a john nash per quello che ha fatto vi presento un attimo la sua opera questo è lui con la moglie alicia e la sua storia travagliata diciamo che la sua carriera è sempre stato ora uno studente più che brillante è un po' vanitoso ma è al ha sempre ambito ad avere il più grande premio per la matematica che era il premio abel e lui studiava le varietà algebriche tuttavia cosa succede nel frattempo invece trova questo equilibrio di nash ma a prinsto non volevano sporcarsi con l'economia volevano solo risultati di matematica pura e quindi non questo premio non arrivava poi si è ammalato si è reso conto di essere schizofrenico e purtroppo ci sono 30 anni prima che abbiano inventato dei farmaci per curare questa questa malattia bene cosa succede subito dopo la che ha iniziato a prendere questi farmaci prende il premio nobel ma per l'economia per l'equilibrio di nash bene nel 2015 invece mi viene riconosciuto il il premio abel per gli suoi studi sulle varietà differenziabili e la la sorte ha voluto che proprio rientrando da quel viaggio in taxi dall'aeroporto a casa ha fatto un incidente sono molti sia lui che la moglie un bellissimo film è stato fatto e per ricordare tratto da una bibliografia del su di lui e volevo solo richiamare per tornare ai giochi per tornare a oggi bene il gioco del go che aveva distribuito che aveva che abbiamo che ha introdotto nella prima relazione l'igabue cosa consiste in una tavola come avete visto non è come la dama che si mettono le le varie pedine nei quadrati ma si mettono come potete vedere all'intersezione cioè nei vertici di quei quadrati e tu vinci una il bianco vince se riesce a circondare una o più pedine del nero e catturarle bene nel film si vede che uno degli studenti che c'era lì a Princeton che era Hansen che era un suo concorrente scientifico lo sfida lo sfida però gli porta una una tavola già iniziata come il nostro gioco di prima della dama e cosa succede John Nash perde e loro lo denigrano e gli altri studenti lo denigrano e lui alzandosi dice ma ovvio chi faceva la prima mossa avrebbe vinto lui in testa aveva già quell'albero che decisionale che io prima ho ricostruito per una situazione piccolissima beh la sua mente bellissima già riusciva a vedere nella sua testa e lui aveva capito e gli ha detto sapevo già che avrei perso non avevo alternative di vittoria bene e un'altra cosa giusto per così vedere se abbiamo capito cos'è un equilibrio di Nash e con questo chiudo è l'esempio delle ragazze a tutti piacevano erano tre amici e a tutti piaceva una bionda e tutti volevano andare a invitare a bellare la bionda cosa succede John Nash dice inutile che andiamo dalla bionda e l'intenzione era spiegare l'equilibrio di Nash e diceva è inutile che andiamo dalla bionda perché necessariamente cosa succede che lei un po ci snoba perché siamo mica tanto belli inoltre allora noi che veniamo rifiutati andiamo dalla dalla mora ma la mora sa che andiamo lì in seconda battuta per cui ci dice beh caro mio dovevi venire subito allora John Nash dice il vero equilibrio è che ognuno di noi vada o che ognuno di noi vada dalle more così loro saranno felici e perché le abbiamo scelte per prima e quello è un equilibrio vero ma è un equilibrio di Cournot cioè è un equilibrio che mira la soddisfazione generale della collettività non è un equilibrio di Nash volete vedere lo vediamo subito abbiamo detto che un equilibrio è di Nash se stante che gli altri facciamo i primi due scelgono l'equilibrio all'ultimo giocatore quello che conviene fare è scegliere l'equilibrio e no perché se i primi due si beccano le more il terzo va sicuramente dalla bionda che è rimasta libera quindi l'esempio che hanno fatto nel libro in realtà non era un esempio di equilibrio di Nash però comunque rimane un bellissimo film sulla sua figura anche le formule che ci sono nel libro nel film non ce n'è neanche una di teorie dei giochi ma vabbè non importa